ben trovati amici alla rassegna stampa di fano tv vorrei dirvi buona giornata ma era meglio che vi dicessi buona pioggia dato che ieri la pioggia è arrivata e ha rinfrescato un po la temperatura portando un po di sollievo a tutti coloro che soffrono di questo grande caldo e soprattutto di questa grande siccità oggi il tempo torna sereno e le nubi si stanno allontanando diamo subito un'occhiata al almanacco del giorno vediamo che oggi si festeggia san bernardo di chiaravalle e per quanto riguarda le previsioni del tempo vediamo che una giornata si ristabilizza rispetto alla perturbazione di ieri un tempo stabile di dunque con un cielo poco nuvoloso con ampie schiarite specie nel pomeriggio le temperature sono calate oscillano dai 20 ai 26 gradi quindi al mattino si respira in modo particolare il sole è sorto alle 6 17 tramonta oggi questa sera alle 20 e 10 insomma le giornate si stanno accorciando apriamo il giornale per quanto riguarda le notizie del giorno a partire dal resto del carlino la pagina di fano e si parla della caserma dei vigili del fuoco della nuova caserma dei vigili del fuoco che è lì lì in fase di progetto da rendere esecutivo ormai da tempo ma che è successo è successo che il destino ci ha messo lo zampino ebbene l'aumento delle materie prime il caro vita ha sospeso l'esecuzione dell'appalto la ditta che aveva vinto l'esecuzione dei lavori ha rinunciato agli stessi perché non vuole assolutamente lavorare in rimessa e vediamo subito il titolo caserma pompieri figli di un dio minore sì perché i pompieri che lavorano nella città di fano sono non solo in organico ridotto ma hanno anche dei mezzi sufficienti tanto che qualcuno deve essere all'evenienza all'occorrenza chiamato dalla sede di pesaro il problema della nuova caserma dei vigili del fuoco si perde ormai nella notte dei tempi ed ancora non è finita perché l'appalto rischia di saltare insomma non si vedono altre ditte disposte con le stesse condizioni che ha rifiutato la precedente di subentrare nell'esecuzione dei lavori però il problema rimane l'organico dei vigili del fuoco di fano è insufficiente lavorano in una situazione precaria dal punto di vista organizzativo e quindi bisogna risolvere questo problema che non dipende dall'amministrazione comunale di fano l'appalto e anche se è stato eseguito dal comune è stato sovrainteso dal ministero degli interni e c'è anche chi incalza l'amministrazione comunale perché faccia qualcosa in questo caso vediamo che lo fa il segretario della lega brandoni e lo fa anche la sezione andrea costa del partito socialista che oltre a sottolineare e dare atto al sindaco massimo seri del suo impegno afferma che bisogna risolvere in qualche modo il problema e poi abbiamo una risposta delle istituzioni all'appello che ieri ha fatto il dirigente dell'istituto del liceo nolfi di fano samuele giombi per quanto riguarda una situazione da monitorare con grande attenzione per il pincio di fano dove si radunano dei giovani che hanno degli atteggiamenti un po particolari unità di strada per monitorare i giovani difficili è uno dei provvedimenti che sta assumendo l'assessorato al welfare ovvero ai servizi sociali l'assessore dimitri tinti anche questa estate l'equipe di animazione di strada dell'ambito sociale 6 ha promosso un calendario di iniziative denominato summer street che prevede anche quattro appuntamenti serali con i giovani sono appuntamenti formativi per il divertimento sicuro insomma si cerca di contattare di parlare di installare un dialogo con questi giovani affinché non debordino verso strade trasgressive e poi abbiamo anche una dichiarazione dell'assessore alla condizione giovanile Barbara Brunori abbiamo creato un tavolo delle eleanze educative di cui fanno parte l'unità di strada di cui abbiamo detto la diocesi esponenti della caritas della scuola una psicologa e leacli una piattaforma che intendiamo allargare anche ai rappresentanti delle forze dell'ordine insomma le istituzioni non stanno inerti di fronte ad una situazione problematica si cerca di darsi da fare comunque il problema ancora lì permane e non è risolto del tutto secondo giorno da favola a con vitruvio a misura di bambini al paese dei balocchi il brutto tempo non ha fermato la festa del paese dei balocchi di ieri sera il temporale è scoppiato intorno alle 19 comunque poi il cielo si è calmato i lampi e tuoni dopo vedremo che cosa ha causato il maltempo di ieri soprattutto nell'entroterra ebbene comunque la serata al paese dei balocchi si è svolta ugualmente e c'è anche sulle pagine nei giornali questa mattina l'investitura a sindaco di luca barbarossa che nel prima prima giornata dell'evento ha un po monopolizzato l'attenzione dei grandi mentre i bambini sono divertiti con le mille occasioni proposte dalla fiaba dalla fa dalla fiaba appunto rivissuta nella piazza bambini del mondo di bellocchi giriamo la pagina e vediamo le altre notizie che riguardano fano abbiamo una notizia di cronaca coca e soldi nel bed and breakfast vacanza finisce in manette una coppia è stata arrestata dai carabinieri per spaccio di droga si un uomo e di una donna 40 anni di fano gestivano un vasto giro di droga da pesaro a fossombrone si rifornivano a riccione lui è stato arrestato di ritorno da una vacanza a desenzano del garda dove insomma stazionava con un bol con un bel gruzzoletto di soldi lei invece è stata arrestata fermata all'aeroporto di bologna di ritorno da una lunga vacanza in spagna ebbene lui è stato fermato è stato fermato mentre con le mani nel sacco si riforniva a riccione di droga mentre appunto tornava a fano e lei invece poi è stata rinvenuta come una sua complice i due sono stati arrestati lei è stata messa agli arresti domiciliari si rifornivano a riccione guadagnavano circa 21 mila euro al mese una cifra veramente importante siccità e canale albani canale albani quasi a secco i pesci però sono in salvo così come la fauna che popolo a questa bellissima oasi faunistica una task force in azione ieri per il trasloco della fauna etica nel fiume metauro non corrono rischi il cigno ugo e gli altri anatedi le altre occhette le papere le ocche che popolano il canale ebbene soprattutto i pesci i pesci perché quando il livello dell'acqua poi cala quando c'è poca ossigenazione boccheggiano e quindi muoiano ieri sono stati prelevati e sono stati poi trasportati sul fiume metauro dove la portata è leggermente maggiore rispetto a quella del canale albani con questa siccità il comune ha voluto giocare d'anticipo per evitare che possa di nuovo verificarsi la moria del 2017 quando tanti tanti pesci salirono a galla in superficie inerti quindi morti oltre 200 espositori alla fiera di san bartolomeo ieri l'iniziativa è stata presentata dall'assessore agli eventi etienne lucarelli e dall'assessore barbara brunori in modo particolare per quanto riguarda un cammeo che all'interno della fiera di san bartolomeo ovvero la fiera dei ragazzi ragazzi che possono vendere quello che hanno i loro giochini loro fumetti una bella iniziativa che si svolgerà dalle 14 alle 20 nei giorni della fiera nelle tendone di sassonia e che riceve molte molte adesioni non occorrono prenotazioni quindi ci si può recare lì con il suo asciugamano metterci poi giochini sopra e traccheggiare tratteggiare con i vicini con i bambini che attireranno appunto la loro attenzione solo sei ambulanti hanno rinunciato agli stalli e dopo tre anni torna lo spazio dedicato ai bambini sono 200 dicevo gli ambulanti che frequenteranno la fiera di san bartolomeo che si svolge a fano nei viali della sassonia dal 24 al 26 agosto prossimo ed è uno degli eventi più importanti della seconda metà di agosto che si svolge nella città di fano giriamo la pagina e siamo a san lorenzo in campo ieri abbiamo visto quali sono gli investimenti del sindaco dell'onti sono investimenti considerevoli che riguardano in modo particolare le scuole ebbene oggi il resto del carlino evidenzia come un milione e 650 mila euro verranno usati per mettere in sicurezza la scuola Bettini il sindaco dell'onti finiremo a ottobre 2023 un focus appunto sulla scuola Bettini e poi ancora sulla pagina di urbino abbiamo un provvedimento invece del sindaco gambini un provvedimento che intima i proprietari di aree verdi dove cresce spontanea la vegetazione di curare appunto la superficie tagliare l'erba perché costituisce degrado per la città ma anche un rifugio per animali nocivi un'ordinanza del sindaco di urbino che impone ai proprietari di aree verdi di tenerle in ordine contro gli incendi pena salate sanzioni chi non provvederà alla polizia verrà sostituito dal comune il comune lo farà il luogo del proprietario ma poi passerà il conto l'ordinanza è già valida e resterà in vigore fino al 30 settembre prossimo la sua inosservanza comporta sanzioni da 25 a 500 euro mentre l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la spesa poi sarà a carico degli inadempienti e qua una nuova truffa compra un drone per 362 euro ma poi scopre che è una truffa l'acquista su internet paga ma il drone non gli viene consegnato e poi abbiamo anche un altro caso una 37enne urbinate aveva posto su internet un annuncio per la vendita di un divano di sua proprietà a 350 euro su un sito dedicato contattata telefonicamente gli è stata suggerita di recarsi agli sportelli atm delle poste per ricevere il pagamento raggiunto telefonicamente da un altro numero le venivano fornite le informazioni per ricevere il denaro chiedendoli di effettuare a sua volta un pagamento di 250 euro per sbloccare la carta ebbene a questo punto l'urbinate ha ricontattato il numero telefonico comunicando che avrebbe proceduto ad allertare la polizia e gli accertamenti successivi hanno permesso di denunciare due quarantenni quindi questa signora è stata accorta attenzione ad acquistare beni su internet furlo dalla vecchia caserma all'hotel di lusso un imprenditore francese acquista lo stabile della forestale in disuso e lo trasforma di una dimora di charm autosufficiente e sono tanti veramente gli investimenti che fanno coloro che non abitano nel nostro territorio in un paesaggio meraviglioso come quello delle colline marchigiane quelle dell'entroterra a due passi dalla costa in un paesaggio di carattere naturalistico e storico di grande di grande suggestione e questo è un caso di questo genere vediamo ora le pagine di pesaro sul resto del carlino e vediamo appunto il maltempo di ieri una pioggia non molto lunga ma particolarmente intensa soprattutto per quanto riguarda la grandine e vediamo subito qui lo spessore la grandezza dei chicchi di grandine che sono caduti sul territorio lo vedete qui sul palmo di una mano un tartufo così viene equiparata la grandezza del chicco sul giornale la grandine sfonda tegole per e pannelli solari e il vento fa cadere gli alberi sulle auto vediamo qui tre momenti dei disastri compiuti la grandine che sfonda i pannelli solari l'albero che cade su tre auto parcheggiate sulla strada e qui un semaforo di emergenza che sostituisce quello che è stato posto in disuso dal maltempo è successo di tutto è successo nel territorio è successo a pesaro soprattutto in via valentini nella zona di madonna di loreto dove un albero che lambisce la careggiata della via si è improvvisamente abbattuto su tre auto parcheggiate e poi i vigili del fuoco insieme ai tecnici hanno eseguito una cinquantina di interventi per il taglio di rami e alberi abbattuti oppure pericolanti su case e strade secondo l'osservatorio valerio la notte scorsa sono caduti 20,4 mm di pioggia e 0,8 mm ieri mattina trasformando le strade in molte zone compreso urbino in torrenti allagando scantinati e cantine ci sono stati veramente tanti tanti danni ma questa pioggia è anche un toccasana dopo tanti mesi di società la pioggia veniva invocata i fiumi tornano a scorrere l'agricoltura respira dai 25 mm della zona mare fino a 50 sul Carpegna l'ultimo temporale degno di questo nome perché altrimenti in passato c'era solo appena appena una pioggerellina insignificante era stato il 9 giugno scorso Marche Multiservizi registra un lieve incremento nelle portate dei corsi d'acqua molti dei problemi legati alla siccità però restano restano Andrea Bordoni che è il dirigente regionale del servizio ambiente agricoltura calcola per le che per le culture primaverile ed estive rimasti a corto d'acqua rischiano raccolti ridotti del 30 per cento quindi culture primaverili ed estive ridotte veramente in maniera importante e i prezzi naturalmente crescano luce bollette triplicate ristoratori disperati un primo dovremmo farlo pagare il doppio dicono i ristoratori un primo un di pasta dovremmo farlo pagare il doppio sottomonte tra i dannati del caro illuminazione da 1550 qui probabilmente c'è un errore si dice da 1550 480 euro in realtà non è una diminuzione ma è un aumento la cifra avrebbe dovuto essere 4842 e questo l'aumento della bolletta circa 300 per cento di aumento ma qualcuno vedi per esempio i bagni agata si salva con i contratti a costo fisso chi ha stabilito un contratto con i fornitori di energia elettrica per un anno a costo fisso ovviamente non subisce alcuna variazione dell'importo e tra questi appunto è Ezio Bracco lo vediamo qui nella fotografia Ezio Bracco anche io tra i fortunati della tariffa bloccata consiglio a tutti di rivedere i contratti sono contratti con le differenti compagnie tenendoli sotto controllo e sistemandoli prima della scadenza onde evitare brutte sorprese occorre insomma rivedere i rapporti con le ditte fornitrici e intanto gli anziani annaspano le bollette che crescono per chi già vive in difficoltà costituiscono un problema ancora più grave e gli anziani annaspano per 28 mila pensioni da fame sono sono 28 mila appunto le pensioni da fame solo 500 euro al mese dove si arriva con 500 euro in base all'ufficio studi cgl sulle retribuzioni della provincia stanno arrivando i conguagli del gas mediamente un 20 per cento dei sussidi bassi ebbene il quadro dato dall'ufficio studi della cgl sulla provincia di pesaro è questo sono oltre 28 mila sono tantissimi oltre 28 mila i pensionati che arrivano a 500 euro al mese sono 46 mila quelli che arrivano a percepire una pensione di 750 euro quelli che toccano quota mille sono poco sopra gli 11 mila e quelli che arrivano a 1500 sono 16 mila chi va oltre da 2000 fino a 3000 euro sono poco meno di 14 mila insomma anche questi che stanno bene sono a un anno una cifra importante ma quella che fa più pensare quella che fa più riflettere richiede interventi sono i 28 mila che vivono con 500 euro al mese e veniamo alle elezioni non si possono non si può trascurare questo argomento siamo sempre più prossimi alla data delle elezioni carloni candidato fumata bianca può essere l'unico eletto in provincia ferma il resto del carlino il centrodestra delinea le scelte l'assessore leghista sfida giordano masini e catapultato qui da più europa ciccioli rifiuta il collegio di ancona ufficiale il senato marchenord al presidente dell'udc il veneto de poli manca solo la firma ma ormai mirco carloni ha in mano la certezza della candidatura al collegio uninominale della camera di pesare urbino e a conti fatti è lui al momento l'unico potenziale parlamentare della provincia ieri il centrodestra ha cercato fino a tarda ora di trovare la quadratura del cerco ieri sera restava ancora qualche casella da sistemare per fratelli d'italia mentre le altre componenti dell'alleanza hanno definito posizioni più importanti ed eccolo dunque il quadro che si sta delineando vediamo detto carloni che sfiderà il romano giordano masini catapultato da più europa nelle marche un altro paracadutato arriva ufficialmente al senato pesaro ancona dove è stato ufficialmente ufficializzata la cessione del collegio dei fratelli d'italia all'udc i centristi hanno indicato come candidato il presidente del partito antonio de poli che viene dal veneto se la vedrà con il sindacalista cisl marco bentivogli indicato dalla federazione provinciale pd ad ancona e condiviso anche da più europa ebbene la senatrice accoto viene battuta sfuma il suo posto come capolista per roma sconfitta di 24 voti alle parlamentarie da giorgio fede delusioni ovviamente tra gli attivisti fanesi lei commenta continuerò a portare avanti il programma ebbene a precederla nelle appunto in queste votazioni interne è stato il senatore giorgio fede di san benedetto del tronto coordinatore regionale del movimento come abbiamo detto che l'ha superata per 24 voti e qua abbiamo invece un resoconto del crass quasi 8.500 animali salvati in tre anni il bilancio del centro di recupero selvatici fondato nel lontano 1990 è guidato da angelo giuliani la liberazione di due animali in questi giorni del tasso e di un'aquila che diventerà donatrice di sangue il tasso era meravigliato di riacquistare la libertà e ci è voluto per farlo uscire dalla sua gabbietta mentre il maltempo ha rinviato la liberazione dell'aquila occorre farlo con una situazione ambientale un po più idonea più tranquilla perché possa riacquistare il suo senso di sicurezza è ancora cronaca violenza agabice scarcerato il 35enne il giudice del riesame concedono gli arresti domiciliari all'uomo accusato di avere abusato di una diciottenne all'esterno di baia imperiale un rapporto che è avvenuto all'interno di una macchina alla notizia dell'uscita del carcere il padre della vittima sbotta questo è un paese di m puntini puntini altro caso di cronaca ruba un portafogli in una camiceria inseguito preso e arrestato si tratta di un 58enne di roma che ora è agli arresti domiciliari il pedrotti tornerà agibile a primavera il comune ha affidato 400 mila euro di lavori per riaprire la sala dei concerti l'assessore pozzi l'avvio del cantiere sarà entro la settimana e per quanto riguarda la pagina dell'arresto il carlino di pesaro voglio concludere con una notizia curiosa la bici palco per gli spettacoli ambulanti si tratta di un mezzo elettrico ideato dai ragazzi del bramante genga lo vediamo qui in questa fotografia a prima vista non si capisce molto ma in realtà guardando bene la foto si vede qui la ruota della bici e quindi il fatto trainante il mezzo trainante e poi tutto il palco che viene poi smontato in modo che poi viene riallargato in modo che possa essere trainato semplicemente da una bici elettrica ebbene è una bella invenzione nove pannelli di legno è una struttura di sostegno punto a trasformarsi in un palco mobile di 5 metri di lunghezza e 1,3 di profondità una bella iniziativa veniamo ora al corriere adriatico l'apertura di pano è dedicata è dedicata alla fiera di san bartolomeo eccola qua eccola qua fiore e fiera di san bartolomeo il must che non invecchia evento commerciale ma anche turistico cosa cambia per viabilità e sosta ci sono diverse notizie sulla organizzazione sullo svolgimento di questa manifestazione importante nella seconda metà del mese di agosto è un evento commerciale perché poi si tratta di 200 espositori che vendono e quindi incassano e magari il pubblico acquista anche bene a prezzi convenienti ma è anche uno spettacolo di attrazione turistica perché quando uno va in vacanza frequenta molto i mercati le fiere come in questo caso e dobbiamo dire che agosto no ad agosto non mancano affano le manifestazioni si è cominciato con con cine fortuna all'inizio del mese e poi la festa del mare i percorsi di fano marinara le tre giornate del carnevale le quattro del paese dei balocchi e dal 24 al 26 agosto la fiera di san bartolomeo insomma veramente un susseguirsi di iniziative importanti e una di queste certamente il paese dei balocchi sogni da musicista e cameriere per sbarcare il lunario è una frase che riguarda la bibliografia di luca barbarossa insignito dalla carica di sindaco del paese dei balocchi il quale sul palco ha raccontato la sua vita ha raccontato la sua musica la sua esperienza con il suo curioso accento romanesco in modo semplice cordiale discorsivo qualche volta anche ironico che ha appunto suscitato l'attenzione del pubblico e poi anche qui abbiamo la coppia di pusher fanesi arrestata dopo le vacanze è un problema causato dai monopatteni monopatteni invadenti e nei posti sbagliati qualcuno li abbandona senza un vero e proprio criterio concludiamo la nostra rassegna stampa con le notizie di sport visse prove di campionato con il gubbio oggi alle 17 prima prova amichevole al benelli assente però di paola al suo posto sassarini schiere il talento del sassuolo a uccelli biglietti a 7 euro invece per quanto riguarda fano vediamo che l'inizio è un po complicato ma sarà più bello questo campionato il tecnico mosconi sul calendario dell'alma inserisce inserisce il suo squadrone all'inizio si confronta con il pineto poi con il tolentino era l'ultima notizia massimo poeti vi augura un buon weekend e noi ci risentiamo lunedì alle ore 7 grazie per l'ascolto e risentirci grazie per la visione